I fan dei Royals si sono rivolti a Twitter dopo che il principe Harry è stato fotografato mentre tiene il trofeo del Super Bowl dopo che la squadra di casa di Meghan Markle, i Los Angeles Rams, ha vinto il torneo. Domenica, Harry ha visitato i vittoriosi Los Angeles Rams negli spogliatoi per congratularsi con la squadra della sua nuova città natale dopo averli visti vincere sugli spalti con la principessa Eugenie. . La squadra vincitrice è andata su Twitter per pubblicare le foto del duca di Sussex che tiene il trofeo durante la visita allo spogliatoio, ora, i fan reali sono stati impazziti dopo che l'immagine è stata condivisa sui social media, con molti che hanno affermato come gli americani amino il buon principe. Una persona, conosciuta su Twitter come Sussex Spartan McGeeve, ha commentato, questo è un momento fantastico per Los Angeles. . La loro ragazza di casa ha portato a casa dei reali reali nella loro città. Belle foto. Harry sembra figo a Los Angeles, un altro utente, vi, ha scritto su Twitter, questo tweet mi fa cantare il cuore. Adoro quanto gli americani amino il buon principe. Con Noble che scrive, hai la vera regalità. Quell'uomo è un gioiello. L'utente di Twitter, da Trinigil 2, ha scritto, congratulazioni per la tua vittoria, il buon gioco di Rams. Adoro vedere il cancelletto Prince Harry vivere la sua vita migliore qui in America ed essere abbracciato nella sua nuova città natale, che meraviglioso benvenuto. Bent Pink ha scritto, sì, signore. L'unico reale che amiamo, Atut Zeras ha aggiunto, guarda il nostro re. Adoro quella vita a Los Angeles per lui. Molti altri hanno affermato che Harry ora sta vivendo il sogno American da allora hanno accolto una figlia, Lilibet Diana. Dopo l'uscita dallo studio, i coniugi hanno criticato lo studio e alcuni suoi familiari in diverse apparizioni pubbliche. In particolare, durante l'intervista dei Sussex con Oprah Winfrey nel marzo dello scorso anno, Harry ha affermato che suo padre Charles e suo fratello William erano intrappolati all'interno dello studio, o dopo aver lasciato la carica di membri anziani della famiglia reale nel 2020, il principe Harry e Meghan Markle si sono trasferiti in California con il figlio Arci.